All'innesto tra la provola e il limone IGP oggi c'è anche una nuova creazione, il lumino, che cos'è? Esatto, il lumino siciliano, che essenzialmente è un prodotto ottenuto tra l'unione del latte vaccino e le scorze di limone IGP, IGP siracusano. Si chiama Lumino proprio perché originariamente il nome limone di Sicilia era Lumie di Sicilia e allora da lì l'origine. Siamo partiti da una base di partenza della classica provola ragusana, provola modicana, innestando un limone femminello all'interno per arrivare a questo prodotto finito. Di poca stagionatura, un mese, un mese e mezzo di stagionatura e dal sapore intenso. Una creazione che ha interessato anche la RAI che oggi è venuta qui per cercare di fare alcune riprese. Esatto, abbiamo avuto questa fortuna di avere la RAI a documentare questo prodotto e siamo onorati di averla qui tra di noi. Grazie.